in qualche modo tu fai un mestiere che è molto bello che molto pieno di passione eccetera lo fai da insomma da donna in un mondo in alcuni mondi o meglio adesso adesso c'è anche una nuova avventura eccetera che sono prevalentemente maschili quindi anche questa diventa una cosa caratterizzante insomma del tuo percorso sì ma quando lavoro io non so sono donna uomo nel senso che e anche le persone con le quali mi interfaccio penso che debbano essere riconoscete per quello che ti danno cioè il valore che può dare una donna o un uomo se competente appassionato voglioso di sapere per me poca differenza fa